Essere farmacisti significa far parte di una comunità. E se la nostra luce resta accesa anche di notte, è per ricordarti che siamo sempre al tuo fianco. Farmacia Carino, con te, dal 1917. Continua l'azione repressiva a tutela del mercato dei beni e dei servizi da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, che, in vista delle festività pasquali, ha intensificato l'attività di controllo del territorio con lo scopo di contrastare il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. Le fiamme gialle della compagnia di Cava dei Tirreni hanno trovato, in un esercizio commerciale di Baronissi, circa 170.000 prodotti, privi delle necessarie certificazioni previste dalla normativa in materia di tutela del consumatore e non conforme agli standard di sicurezza. La merce, sequestrata e sottratta alla vendita, oltre ad articoli per la casa, riguardava materiale di cancelleria, accessori vari e materiale elettrico, nonché gadget a tema pasquale. L'esercente, un uomo di origine asiatica, è stato così segnalato alla Camera di Commercio per l'erogazione delle sanzioni amministrative. La Guardia di Finanza conferma la costante attenzione volta a contrastare la vendita di prodotti non sicuri che danneggiano il mercato, sottraendo le opportunità e il lavoro alle imprese che invece rispettano le normative comunitarie e nazionali di settore, introducendo in commercio articoli di qualità che, rispettando i standard di sicurezza imposti, tutelano la salute dei consumatori.